Henry, duca di Sussex. Meglio noto come Harry, è un nobile e militare britannico. Principe e membro della famiglia reale britannica. Quinto in linea di successione al trono del Regno Unito e dei reami del Commonwealth. Dopo il fratello e i nipoti. Non bastava la bufera sulla foto ritoccata di Kate. Ci sono guai all'orizzonte anche per il principe Harry e sua moglie Meghan Markle. Il tabloid inglese Sun, nella sua edizione digitale, ha di fatti passato in rassegna una serie di foto della coppia che potrebbero essere state a loro volta modificate.